Ciao amicicciola! Benvenuta qui nell'area YouTube del convento di Lunato di Brescia. Siamo in compagnia di lei, questa bellissima topolina che si chiama Stefania. Lei ha deciso il 22 settembre di sposare un ragazzo che forse si chiama Luca. Hai dovinato? Si chiama. E vieni da? Brescia. Brescia, bello di Brescia. Brescia. Allora, ti faccio tue domande io e altre poco meno di dieci, poco più di cinque, la tua amica. Ok, chi si chiama? Mi si dà al microfono il tuo nome? Assistente? Roberta. Roberta. Sembra la valente che era alle cinque. Allora, la nostra Stefania. Io ti faccio una domandina subito spitta. Allora. Dopo faccio la teografia. Guardiamo, guardiamo. Mentre fai l'amore. Si. Allora, mentre fai l'amore, hai mai pensato di dire che hai in parte a te un coglione perché non ti tratta la porchetta? No. No? Il tuo Luca ti tratta la porchetta? Si. Ti prende la porchetta? Si. Ti sbatte contro il muro? Ah, però! Ci dà dentro la nostra Stefania. Ora, ti lascio la parola alla tua amica che mi fa una domandina. Vai! Cara Stefania, se la penitenza non vuoi fare, le risposte devi inclinare. Dimmi tre ragazzi che giocano a calcio con Luca. Tre ragazzi? Tre ragazzi che giocano a calcio con Luca. Stefano. Stefano. Claudio. Claudio. E Roberto. E Roberto. Brava! Ok. La prima è andata. Che numero ha di piede l'Anna Maria? Numero di piede di Anna Maria? Quattro. Tre. Nove. Il donato va suggerito. Di nuovo, Anna. Poi, altra domanda. Quando partorisce a Marianna? Febbraio. E la madonna, ma come sei brava. Quando si sono messi assieme la Roby e Dario? In che anno? Novanta. Sbagliato. La penitenza è che devi cantare Acqua e Sale. Ok, adesso andiamo subito su Acqua e Sale. Guardiamo, guardiamo. Dammi trenta secondi. Guardiamo dove, 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 dove. Guardiamo se ce l'abbiamo. Tu fai il maschio o la femmina? Tu fai il maschio o la femmina? Acqua e Sale. Eccola qui, vai. Ti do una mano io, dai, Stefania. Sei pronta? Si è. Te segue qua. E' gonosa. Semplici o po' banali, io direi quasi prevedibili e sempre uguali. Sono fatti tutti così luoghi e l'amore, come vedi tanti aggettivi che si collano su noi, perché non siamo buoi cantini. Questa è per la mia Stefania. Tu non sei niente male. Ma se ne inizio prendi qua, non ti ricordi. Questo è fino solo Stefano, vai. La tua foto d'acqua, tu sei che sei costruccato. E va bene guida tu, che sei brava più di me. E l'accento che sia un amore. Ma io sono con te ogni giorno, perché di te ho bisogno. Non voglio di più acquistare. Mi vuoi bere con un corpo di trattieri. Mi chiede, mi fai male, mi fai volere. E se mi vedi un angolone. Lo ritiene come un lago. E se fiove un po' di meno lo stagio. Voglio dire, non conviene, voglio manare amore tutte le pene. Sento che mi rido dentro, questo non mi conviene, c'è qualcosa che non vado, non so dirti cosa. E' l'automoto che sta giù, che mi rego in mare io, o meglio averti qui vicino a me. Dai io, sono con te ogni giorno, perché di te ho bisogno, non voglio di più. Tu a quel sole mi fai vedere, con un corpo di tratte e di pincere, mi fai fare. Puoi gozere, se mi vedi in un angolo. L'amore viene, come un lago, che si muove un po' di meno lo stagno. Vorrei dire, non conviene, sono io a bagnare amore tutte le pene. Sfruttasi stesse, vai con le domande. Allora cara Stefania, come si chiama, qual è il cognome del moroso della Valentina? Il cognome del moroso della Valentina. Scema! Scema! Ed è l'amante? Ah non c'è, ok. Quando si è sposata la Chiara? Nel 2008! Nella Madoi? Quando ti è morta la Chiara? Nel 2013! Grazie. Ah! Anche tu! Ah, io dentro. Qual è il primo tatuaggio che si è fatta a Veronica? Oh sì ce l'ho! Il primo tatuaggio di Veronica! Drilli! Drilli! Mamma, viene anche una penitenza, una! Qual è il primo uomo che si è fatta invece? Eh, di! Il primo uomo che si è fatta? Allora, Stef, torna seria. Qual è il vero nome del meme? Cinque? Oh sì ce l'ho, come mi spiego su Facebook anche! Tre, due, uno, penitenza! Corri sul posto, Stef, di correre sul posto! Dove? Corri! Ok! Ma la penitenza migliore è che c'è un... Come ultima domanda, quando vai al cinese, cosa beve di solito la Cri? Cinque? Al cinese cosa beve la Cri? C'è cacola! Eh, sbagliato, sbagliato, sbagliato! Cosa? Acqua! 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 Come penitenza devi dieci volte saltare aprendo le braccia e le gambe. Sì, che devo fare? Come fanno i militari in America? Vai! No, davanti a me, però dritta a me! Guarda a me, guarda a me! Guarda a me! Ok! Salta! Vai! Apri le mani! Uno, due, uno, due, salta! Alternata! Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci! Brava, scampaglia! Ora, peri te e tu, perché mi finiscono? E sbagliavi, posso guidare un bacio a lui, vedi? Ho sbagliato! No, io non faccio parte del gioco. Ah, 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 ah! Io faccio parte del gioco quando è finita la registrazione. Ma il tipo dietro non c'è. Il tipo dietro puoi scegliere di cambiare con Luca se vuoi. Finito Luca? La confermiamo? Ok! Guarda che sta crescendo il naso! Allora confermiamo il tuo Luca! Luca! Allora confermiamo il tuo Luca! Allora confermiamo il tuo Luca!